La loro segreta natura, voglio congiungermi con loro e mettere al mondo nuovi tempi. C'è anche Filippo Brunelleschi nella Divina Proporzione, lo spettacolo della compagnia Teatro Studio Cripton, tra i video visibili da ieri sul canale Vimeo Italiana, collegato al nuovo portale del Ministero degli Esteri per la promozione e la diffusione della cultura italiana all'estero. Il video dello spettacolo girato al Teatro della Pergola di Firenze è stato prodotto grazie alla vincita del bando Vivere all'italiana sul palcoscenico. Il nuovo portale rappresenterà la piattaforma virtuale ufficiale sulla quale verranno promossi e diffusi gli eventi e i progetti culturali realizzati con il sostegno del Ministero. Lo spettacolo è nato nel 2020 per celebrare i 600 anni della fondazione della cupola di Santa Maria del Fiore di Firenze. Grazie a tutti. Grazie a tutti.